Buonasera a tutti, io sono Ludovica. Oggi ci sarà la prima puntata dedicata all'orientamento e in particolare parleremo del test online CISIA, ovvero il TOLC. Per immatricolarsi in alcuni corsi di laurea di primo livello dell'Università dell'Aquila è obbligatorio sostenere una prova attitudinale che si effetta per l'appunto partecipando a un test d'ingresso organizzato dal Consorzio CISIA. Questa prova ha lo scopo di valutare la preparazione degli studenti nelle discipline di base, coerentemente ai requisiti necessari per frequentare il corso di laurea prescelto. Ciò è utile all'Ateneo anche per organizzare diverse attività di orientamento e formazione per le eventuali lacune, come ad esempio i precorsi. All'Aquila sono diversi i corsi di laurea che richiedono il TOLC e tra questi ci sono i corsi di laurea di ingegneria, economia, di biologia, biotecnologia, scienze motorie, come anche i corsi di laurea di matematica, fisica, chimica e scienza. In ogni caso si può verificare se il corso di laurea prescelto richiede lo svolgimento del TOLC andando a controllare sull'offerta formativa di questo appunto. Ovviamente il test non sarà uguale per tutti i corsi di laurea e gli argomenti variano in base ai requisiti necessari e richiesti. In una situazione normale il test si sarebbe svolto all'interno dell'università, quest'anno con le problematiche ovviamente legate al covid si potrà sostenere presso la propria abitazione nella modalità chiamata TOLC casa e nata proprio appositamente per l'emergenza sanitaria. Ora per prima cosa bisogna iscriversi al test quindi accedete alla pagina cisionline.it e cliccate sulla casella dedicata al TOLC. Su questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie e per l'iscrizione andate sulla casella iscriversi al TOLC e seguite le procedure che ci sono indicate per il TOLC casa. Vi consiglio prima di fare ciò di informarvi su quale TOLC dovete fare per il corso di laurea perché come vi ho detto prima ci sono diverse tipologie che si contraddistinguono attraverso una lettera come ad esempio TOLC I, TOLC F, TOLC S. Quindi trovate il TOLC di riferimento per il corso di laurea che vi interessa e proseguite con la procedura di iscrizione. Considerate che sempre nel sito del CISIA c'è nella casella regolamento TOLC il regolamento e la tipologia del test dove potete trovare la tipologia del test di riferimento e inoltre si possono trovare anche delle esercitazioni e il calendario delle date del test. Per quanto riguarda le date ce ne sono diverse, ce ne sono tante e l'escrizione è possibile farla entro una settimana prima dalla data stessa. Quindi molte date già ci sono state e ci saranno altre date anche ad agosto e settembre. Un'altra cosa da sapere è che il test ha un costo di 30€ e in caso di non superamento della prova questo è rimborsabile solo la prima volta e inoltre in caso di non superamento è possibile fare un test di recupero a dicembre e comunque in ogni caso il non superamento della prova non impedisce di fare l'immatricolazione ma semplicemente verranno assegnate degli obblighi formativi aggiuntivi come ad esempio quello di dover fare degli esami prima di altri nel primo semestre. Si conclude quale puntata? Io vi ricordo che comunque per qualsiasi dubbio potete scriverci sulla nostra pagina facebook Udul Aquila e inoltre sempre come vi ho detto prima sul sito di cisionline.it c'è veramente spiegato tutte le procedure e i passaggi che bisogna eseguire sia per l'iscrizione sia per il giorno insomma del test. Viene spiegato nei minimi dettagli insomma tutte quante le procedure e cosa dovete fare. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona serata.